Poi c'è la preoccupazione, ci caccia un po' da ciò non mi è mai venuto, allora io mi agito perché sono germofobico, se mi viene un po' del flusso gastrico, infatti sono tutto gonfio qui, faccio inizio a girare, se mi viene a scuola, se arrivo, se c'era un compleanno, ci sono 6 persone, tutta la famiglia sono loro, non puoi non andare. Perché rimane inizio e c'è qualcosa peggiore nella vita, per un po' di mare dietro, e quindi secondo luoghi, non ha cawehr, Poi prendi uno a casa, prendi due, prendi uno a pranzo, a cena, e la guardia con la visione. Poi prendi due, prendi due, prendi due, prendi due. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.